Antes, prima noi, avevamo tutto qua, tutto qua dentro, tutto l'equipo del piloto qua dentro. Guardate, in questa capellera di donna si stava tutto, gli occhiali, i guanti di pelle, la maglietta e il casco. Tutto qua. Il casco, la maglietta, i guanti e gli occhiali. Visto? Questa è la Ferrari 2005, 8 cilindri a V, derivato dalla Lancia. Con questa macchina Fangio conquistò il suo quarto campionato mondiale nel 1956. Un modello con molte novità tecniche. Motore portante, anche se ancora anteriore, serbatoi laterali, cambio molto vicino allo sterzo, ottima posizione di guida. In quell'anno, il 1956, tra corse di Formula 1 e Sport, disputò 15 gare. Ne vinse 6 e fu secondo in altre 4. Quando una macchina va bene, ogni suo strumento si accorde in una sola armonia. Il rumore diventa musica e il piloto è come un direttore di orchestra. Il rumore diventa musica e il cliente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.